L'evento di stamattina si colloca all'interno di un progetto di iniziativa nazionale, io leggo perché, edizione 2021, a cui la nostra scuola ha aderito per dare la possibilità ai nostri studenti di riscoprire l'amore per i libri e per la lettura. I nostri ragazzi hanno supportato dal lavoro di alcuni insegnanti della scuola secondaria, si sono dedicate in queste settimane precedenti alla preparazione di queste attività. Nella giornata odierna i nostri studenti, alcune delle nostre classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, saranno qui in piazza a completare il percorso previsto all'interno di questo progetto e a spiegare ai cittadini interessati in che cosa consiste questo progetto, coinvolgendoli in attività di tipo ludico e anche di tipo culturale e sollecitando tutta la popolazione cittadina anche a recarsi presso la libreria Punte a Capo, dove è possibile acquistare un libro da donare alla biblioteca della nostra scuola. Anche perché questa iniziativa è in collaborazione con la libreria Punte a Capo, con la quale sono stati organizzati anche momenti di incontro per i nostri studenti durante i quali ci si dedica alla lettura di libri e di opere di vario genere. I carabinieri hanno donato per questa iniziativa un albero che sarà al termine di questo evento piantato all'interno del nostro cortile nella sede centrale e di cui i nostri studenti si prenderanno cura, quindi esattamente come oltre alla passione per la lettura e per i libri anche si sottolinea la passione per la natura e per l'ambiente.